eccoci qua cari amici breve flash e breve fermata qua siamo sull'appennino sull'appennino emiliano sto tornando a casa prendendo la strada verso modena e niente ragazzi guardate un po cosa andiamo a trovare lungo la strada abbiamo un piccolo un piccolo appunto non so trattorino o qualcosa ecco e niente insomma la marca cos'è che è amico ecco qua e niente insomma io ve lo porto a casa ecco qua interessante piccolo trattore con queste gomme insomma abbastanza anche spesso eccolo qua portiamo a casa anche questo eccolo qua spettacolo poi mi informerò a casa il modello e niente ragazzi a parte questo anche questo bel questo bel pezzo di storia qua imboscato in questa vegetazione guardate poi cosa ci regala ancora la strada ecco ve la faccio vedere eccola qua eccolo qua spettacolo abbiamo il realito di una di una lada niva eccolo qua anche questo insomma fa coreografia fa paesagistica e per cui portiamo a casa il ricordo di questo scheletro di fuoristrada o di jeep o di macchina da campagna di montagna eccolo qua questo fuoristrada niva eccolo qua utilizzata utilizzata appunto come magazzino eccolo qua spettacolo questo è un po quello che regala la strada ragazzi con questo vi saluto rimettiamoci sulla strada assoluto la vecchia gioco e poi qua aveva anche il tettuccio probabilmente gliel'hanno fatto sicuramente eccolo qua ragazzi saluto saluto valter eh guarda qua valter una lada niva informati bene e dacci le tue considerazioni ragazzi ciao a tutti saluto max e tutti quanti e la vecchia gioco chiaramente impettacolo ciao a tutti viva il marventù